Oggi sono ben pochi quelli che scelgono liberamente di andare in Libia. In occasione della giornata contro la tratta a Genova, il giornalista di Avvenire, Paolo Lambruschi, offre un quadro documentato della situazione africana. La Libia, dice, è il terminale di quelle che un tempo erano le rotte degli schiavi, oggi di nuovo percorse. Se le persone non vanno in Libia, infatti, allora vengono rapite e portate in centri lager come quello di Bani Valid. I trafficanti stanno massimizzando, rivendendo per cercare di guadagnare il più possibile le persone, le torturano, ricattano le famiglie dicendo che le torture smetteranno solo quando queste persone pagheranno i riscatti. Contemporaneamente stanno facendo partire le persone che sono già state spremute, che non hanno più soldi per pagare la libertà, allora dicono va bene, ti facciamo fare un viaggio in mare, per quanto pericoloso possa essere, a low cost. Lambruschi punta il dito contro l'atteggiamento della comunità internazionale. Sono stati fatti accordi con i trafficanti, spiega, veri e propri banditi, anche se portano le divise delle autorità libiche. Adesso stiamo attendendo il governo che continua a dire che cambierà con una commissione, non si sa bene, composta da chi questo memorandum, che è l'accordo con la Libia, che è stato approvato il 2 di febbraio. Il governo chiede, pone la questione dei centri, però sostanzialmente nessuno gli dà ascolto, anche perché stanno facendo accordi, hanno fatto accordi con i banditi che gestiscono i centri, quindi non si capisce perché dovrebbero rinunciare. Infine c'è l'indifferenza della gente. Lambruschi pronuncia una frase forte, credo nel male che ritorna, perché la storia ce lo insegna. La tortura, la brutalità, la negazione della dignità umana, della stessa umanità di queste persone, che sono trattate spesso anche con grande razzismo dai carcerieri, e senza umanità, sono le stesse. C'è indifferenza, un'indifferenza che è il filo rosso che lega la storia. 70 anni fa, 80 anni fa ci fu indifferenza, adesso in Europa c'è la stessa indifferenza.